Portaci, portaci, portaci in Europa, oh benigni, portaci in Europa! Noi siamo pronti per la trasferta in apetta per Frosinone, c'è posto anche per qualche giocatore se serve, volendo. Le scarpette le portiamo noi, le scarpette le portiamo noi, le magliette, i maglietti ce l'ho io! E i pulmini li prendiamo a Mondicelli! Il tè? Il tè chi lo porta? Chi porta il tè? Io porto la birra! Ok, siamo pronti! Forza piccio!